Sì, buon pomeriggio, ci troviamo qui negli spogliatoi dello stadio San Nicola con Simone Simeri. Benvenuto Simone. Buongiorno, benvenuto, grazie. Simone, ti chiedo subito, questo più 12 sulla Turris è sicuramente motivo di sicurezza per il proseguo di questo campionato per voi? Sì, sicuramente ci dà quello stimolo in più per chiuderlo quanto prima, anche perché noi adesso non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo collarci magari su questi 12 punti, ma far sì che partita dopo partita dobbiamo aumentare questo distacco. Simone, l'essere attaccante è un po' difficile ai giorni d'oggi, perché si finisce spesso tra l'essere criticati e l'essere elogiati. Come stai vivendo questo momento? Ma io la vivo serenamente, fa parte del mio mestiere, diciamo, quindi le critiche sono fatte anche per essere smentite, quindi spero quanto prima possibile di smentirle, aiutano a crescere e poi devo dire la verità che sono più elogi che critiche, quindi non è un problema, anche perché comunque sono contento di quello che sto facendo, sono consapevole che avrei potuto fare di più sotto l'aspetto quello realizzativo, però va bene così, l'importante è che, come hai detto già tu prima, siamo a più 12 dalla seconda, quindi va bene così. Ultima domanda, tu Neglia e Floriano siete a quota 7, è partita una mini sfida tra di voi interna? No, interna no, ovviamente numericamente, agli occhi degli altri è come se ci fosse una sfida, perché tutti e tre abbiamo 7 gol, però non è una sfida, l'importante è che comunque alla fine dell'anno l'obiettivo primario è quello di vincere il campionato. Bene, grazie, grazie a Simone Simeri, studio. Novanta secondi, dal martedì al venerdì ti portiamo in allenamento con SSC Bari. Novanta secondi di commenti e novità in esclusiva dalla voce del mister e dei biancorossi. Novanta secondi, solo su TV Sport, per Telebari e Radio Bari. Radio ufficiale SSC Bari. Novanta secondi, solo su TV Sport, per Telebari e Radio Bari.